Sai lanciare una lattina nel secchio? Facile! Guarda e impara! Dieci su dieci! Wow, l'ha fatto senza nemmeno guardare! Voglio farlo anche io! Va bene, proverò un po' più vicino! Beh, devo prendere meglio la mira! Fatto! Non è stato difficile! Ehi, lattina cattiva! Cento dollari? Sono proprio una ragazza fortunata! Mmm, sento profumo di verdoni! Cosa desideri? Di tutto e di più! Nessun problema! Ecco, questi sono tuoi! E anche i cioccolatini! E anche le patatine! E non dimenticare i popcorn! La nostra sfortunata Ellen ha finalmente avuto fortuna! Aspetta, questa è una banconota finta! L'ha spacciata per soldi veri! Quella ragazza ha cercato di fregarmi! È una ladra! Sei in arresto! No, è tutto come al solito! Ellen è ancora sfortunata! Prendo un secchio di popcorn, per favore! Ecco qua! Grazie! Buon pomeriggio! Popcorn, per favore! Wow! Un secondo! Questa è la dimensione giusta! Esatto! Moneta grande! Secchio di popcorn grande! Allora ragazzi, è ora di fare pratica! Evviva! Siamo pronti! Il giorno è finalmente arrivato! Ora creerò qualcosa di grande! Nooo! Ellen, quelli sono i reagenti sbagliati! Ferma! Ah! Era... Proprio quello di cui avevo bisogno! Ho un'idea geniale! Mi serve una matita! Con la fortuna di Amanda, niente è un problema! Amanda, cosa stai facendo? Lo vedrà, signor Sanders! Un po' di panna acida! Attimo! Che ricetta insolita! È perfetta per fare l'oro pure! Tutto questo grazie alla mela? E se mi aiutasse almeno a fare qualcosa di gustoso? Dammela! Dimentica il cibo! Voglio dei diamanti! Oh, che bella giornata! Dovrei invitare le mie amiche a fare una passeggiata! Oh, meno male che non si è rotto! Cosa? Non riesco a muovermi! Sono bloccata! Ehi, giovanotto! Ho bisogno del tuo aiuto! Non riesco ad alzarmi! Certo che non puoi! Ti sei seduta su una panchina appena verniciata! Mi passi il mio smartphone! Questo? Bel gadget! Facile da vendere! Grazie! No, no, aspetta! Aiuto! Aiuto! Oh, sei un truffatore! Amanda è invece letteralmente inseguita dalla sua fortuna! Sono bellissima oggi! Oh no! Lo schermo si è rotto! È tuo? Sono così fragili! Sì, è morto! Wow! Sei carina! Questa è per te! Davvero? Sì, qualsiasi cosa per la tua felicità! Meno male che sei arrivato tu! Grazie! Sposami, Dea! Cosa? Mi dispiace, non posso! Sono già sposata! Mi dispiace tanto! Grazie ancora per il regalo! Sì, sembra che questa volta solo Amanda abbia avuto fortuna! Di nuovo! Ehi, Amanda! Giochiamo a Twister! Hmm... È una buona idea! Volentieri! Cominciamo! Gira la freccia! Allora, piede destro sul blu! Fatto! Ora piede sinistro sul giallo! Fatto! Qual è il prossimo? Piede destro sul blu! Piede sinistro sul giallo! Di nuovo la stessa combinazione! Così non è divertente! Basta! Sono stufa! Invertiamo i ruoli! Prendi la ruota! Adesso tu sarai l'arbitro e io il giocatore! Preparati a perdere! Piede sinistro sul blu! E piede destro sul blu! Ellen è chiaramente meno fortunata di Amanda in questo gioco! Pronto? Hai comprato quella camicetta? Oh no! Aiutami, Amanda! Ho ordinato dei croissant deliziosi! Hanno tonnellate di ripieno! Ellen, ho freddo! Au! Vorrei una coperta o qualcosa del genere! Fa così freddo qui dentro! Ecco qua, dicevo! Quei croissant hanno un gusto incredibile! Buongiorno! E croissant? Fermo! Lampadario cattivo! Grazie! Buon appetito! Ordina di nuovo da noi! Sì! Hanno un profumo buonissimo! Ho l'acquolina in bocca! Quanto sei caldo, tesoro mio! Ehi! Che strano! Dov'è il ripieno? Oh sì, Ellen aveva ragione! Ho ordinato quello con la crema alla vaniglia! Tanta farcitura esiste solo nei croissant del paradiso! È vuoto! Ecco cos'è la felicità! Anche il mio croissant si è rivelato un traditore! Semplicemente delizioso! Perché sono così sfortunata? Oh, levati quel sorriso, Amanda! Non è divertente! Adesso posterò la foto! Tutti vedranno che sei un'ingorda! Smettila! Anche se sai cosa? Pubblicala! Non mi vergogno delle mie debolezze! Buon pomeriggio, Amanda! La nostra azienda vuole che tu diventi la testimonial del nostro marchio! Stai perfetta per noi! Questo è il tuo anticipo! Ah! Hai visto? Ho avuto di nuovo fortuna! Un giorno avrò successo anch'io! Amo i gatti! Oh no! Certo! La carta finisce sempre quando serve a me! Non è giusto! Ancora! È una specie di maledizione della carta igienica! Meno male che questa volta ho un libro! Oh! Carino! E anche un ottimo profumo! Alla fine sono stata fortunata! Un intero grande rotolo! Ehi, vergognati! Ridammi il rotolo! Basta! Questa è stata l'ultima goccia! Porterò io stessa la carta! Sono sicura che questa sarà sufficiente! Anche per me! Ai! Chod! Stop! Aspettate, amici! Sono io! Ellen! Aiuto! A giudicare dal comportamento di Ellen, le ragazze hanno un test importante domani! Ma sembra che Amanda, a differenza della sua amica, non se ne preoccupi! Dopotutto può sempre contare sulla sua fortuna! Devo imparare questo! Oh no! Ho dormito troppo! Presto! Posso ancora farcela! Salve, signor Green! Scusi il ritardo! Posso avere un modulo? Grazie! Ti restano cinque minuti prima che la lezione sia finita! Buona fortuna! Ovviamente il signor Green non sa che la fortuna è una cosa inesistente per Ellen! Sul serio? Amanda, posso prendere in prestito la tua matita? Mi dispiace, ne ho solo una! Ellen, prendi la matita e non copiare! Grazie! Sì, Amanda sembra affidarsi totalmente alla propria fortuna! Mi chiedo se la sua fortuna la aiuterà anche questa volta! E se funzionasse anche per me? Oh, ci provo! La povera Ellen non dovrebbe illudersi! Sicuramente non è una ragazza fortunata! Bene, ora vedremo! Amanda, congratulazioni! Hai preso A! Ed ecco il voto per te, Ellen! Voilà! E pulisci il banco! Una F! È stato inutile prepararsi! Non vuoi perderti i nuovi video, vero? Allora iscriviti al nostro canale! Oh, quello è Taylor! È fantastico! Aspetta, so come attirare la sua attenzione! Sarà mio! Una gomma? Ma stai scherzando? Non funzionerà mai! Guarda e impara! Oh, sei carina! Sento che c'è qualcosa di speciale tra di noi! Sì, anch'io! Il mio cuore sarà tuo per sempre, bellezza! Siamo una coppia perfetta! Vuoi essere la mia ragazza? Di certo non rifiuterò! E dai! Basta una gomma? Posso farlo anche io! Devo solo impegnarmi di più! Posso assolutamente farcela! Spero di non rovinarmi i denti! Taylor sembra essere perdutamente innamorato di Amanda! Ellen non ha possibilità! Vedremo! Ma che? Ma ha leggermente esagerato! Dopo una tale esplosione non passerà inosservata! Purtroppo! Che spettacolo! Non sarà facile da pulire! Ciao, Mark! Ciao, ragazze! Beh, lo facciamo? Uno, due, tre! Amanda! Come sempre! La bellezza e potere! Penso di sapere perché Amanda è sempre fortunata! Ha un talismano! Esatto! Come ho fatto a non accorgermene prima? Deve essere mio! Ellen, cosa fai? Wow! Funziona veramente! Ciao! Stai bene? Lascia che ti aiuti! Devi esserti fatta molto male alla testa! Ma va tutto bene! Guarirà! Oh, mi dispiace! Volevo solo essere fortunata come te! Tienilo! Sei sicura? Grazie! E tu? Non preoccuparti! Ne ho altri! Saremo entrambe fortunate adesso! Tutto per 10 centesimi! Sì, è il mio piccolo business! Credi nella fortuna e negli amuleti porta fortuna? Faccelo sapere nei commenti sotto al video! Ti è piaciuto il nostro video? Allora premi like, iscriviti al nostro canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella! A presto!